Alleluia! Ce l'abbiamo fatta! A vincerne una! Ce l'abbiamo fatta! Con la squadra che probabilmente ha iniziato a chiudersi dietro Ce l'abbiamo fatta giocare! Ce l'abbiamo fatta! Allora è possibile! Allora è possibile! Si può giocare! Si può vincere una partita allora! Allora è plausibile allora! Si può fare! Io non ci credevo! Non ci credevo! Visto il primo tempo dicevo questa finisce 0-0 Come al solito invece mi sbagliavo! E sono contento! E sono contento di sbagliarmi! E sono contento di sbagliarmi! E sono contento! Venitemelo a dire! Venite! Venite! Sbagliavi! Sbagliavi! Sì! Sbagliavo! Sì! Sì! Sbagliavo! Sì! Sì! Sono contento di sbagliarmi! Che dire ragazzi? Andiamo con ordine! Perché andiamo con ordine! Io mi siedo sulla poltrona! Tranquillo! Per vedermi la partita! Tranquillo! I capitani si scambieranno i gagliardetti! Va bene! Capitani? E mi vedo il nostro caro Palo della Lucia capitano! Perché? Perché? Non ce n'era uno un po' meglio di lui per fare il capitano! Non c'era! No! Va bene! A quanto pare no! Va bene! Inizia la partita! Primo tempo! Ragazzi! Io non penso di dire una cosa tanto fuori dal mondo se dico che il primo tempo è stata una roba inguardabile sotto ogni punto di vista! inguardabile! Pellegri era fuori da ogni minimo schema di gioco! Era fuori! Lazaro! Vabbè Lazaro! Lazaro! Io ho finito gli aggettivi per parlare di Lazaro! Io ho finito gli aggettivi! Io ho finito gli aggettivi! Non ho più niente! Non ho più niente di nuovo per descrivere Lazaro! Quanto faccio... Anzi! Una cosa sì! In confronto forse Molinaro non era così male! In confronto Molinaro non era malaccio! Poi vabbè ragazzi Vania! Io sarò un... Sarò un disco fisso! Sarò un disco incantato! Non lo so! Ma dal momento in cui tu, portiere, dici... A calcio d'angolo tu fai... Mia! Mia! Non toccare mia! E poi... E poi così? Vai così? Cioè... Che cazzo di... Che cazzo di considerazione devo avere tua? Che cazzo di considerazione devo avere tua? Ho fatto male! Un po' pazzo! Comunque... Finisce il primo tempo? Io sono lì che dico... Visto com'è andato... Come si è giocato? Perché come si è giocato il primo tempo? Come si è giocato? Io sono lì che dico... Eh... Questo finisce 0-0! Di nuovo! Un altro 0-0! Un trittico di partite tra Salernitana, Sassuolo e Lecce! Dove tu dovevi fare come minimo 7 punti! Te ne prenderai 3! Bello! Fantastico! Magnifico! Bello! 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 Inizia il secondo tempo così... Completamente sfiduciato! Completamente senza nessuno... Disilluso totale! Segna Bellanova! E che gol che fa Bellanova tra l'altro! Vorrei aggiungere! E che gol che fa Bellanova! Ragazzi, Bellanova... A parte... Uno che giocatore è? Uno che giocatore è? Trenino... Trenino Bellanova! Inauguriamo una pagina Trenino Bellanova! Ma poi... Che gol che fa! Che gol che fa! Ragazzi, io sono mesi che dico che a Bellanova l'unica cosa che gli mancava era il gol! Perché le prestazioni ottime c'erano! Gli assist ci sono! Gli mancava il gol! Gli mancava solo il gol! Meritato per quello che ha fatto in questi mesi! Questo gol è meritato per quello che ha fatto in questi mesi! Quindi... Finalmente! La partita entra in controllo! Va in controllo! Espulsione! L'espulsione del Lecce! Di Pipongaracic! Che è il secondo cartellino giallo che ci stava! Step on foot! Step on foot è sempre giallo! Quindi... Su quello non si può venire a dire niente! Ma assolutamente niente! Non venite a venire niente! E... Succede che cominciamo un pochino a pressare! Cominciamo un pochino a pressare! A tirare in porta! Questa cosa strana! Questa cosa strana che... Lo so che non è concepito in casa nostra! Non è concepito! Ma tirare in porta! Uno strano concetto! Uno strano concetto che io mi ero dimenticato! Un concetto dimenticato dagli antichi forse! Considerato negli antichi! Non lo so! Tiriamo in porta! Falcone fa una parata super! Una parata super su Sanabria! Ero già lì pronto ad esultare! A stappare il vino buono! Perché ci ha segnato pure Sanabria! No! E fa una parata della madonna Falcone! Io vorrei... Io continuo a dirlo! Per me! Falcone è un ottimo portiere! Io al posto del nostro palo della luce! Non mi farebbe schifo! Diciamo che non mi farebbe schifo! E poi... E poi arriva il secondo gol! E poi arriva il secondo gol! Duvanone! Duvanone! Duvanone-Zapata! Duvanone-Zapata è il solito! Sempre lui! Sempre lui! Per una volta su un calcio d'angolo ho battuto bene! Su un calcio d'angolo ho battuto bene! L'ha battuto bene e voi voda! Ragazzi! Voi voda! L'ha battuto bene e voi voda! Voi voda! Quello che quando montavano i piedi lui era farsi montare altro! Non lo so! Voi voda! Voi voda! L'ha battuto bene! Poi ragazzi! Noi abbiamo una sfiga addosso che davvero... Abbiamo una sfiga... Tanto sfiga non è! Perché si è rotto Lazaro! Si è rotto Lazaro! Di nuovo! Terzo Lazaro! Terzo è fortunato in tre partite! Che bello cazzo! Che bello! Niente! Adesso noi abbiamo il recupero! Giovedì contro la Lazio! Abbiamo il recupero contro la Lazio! Sinceramente! Sinceramente! Io non so cosa aspettarmi! Sinceramente io non so cosa aspettarmi! Sono sincero! Sono sincero! Io spero... Spero che il Toro vinca! Perché ci mancherebbe soltanto! Spero che il Toro vinca! Anche se sono abbastanza sicuro che così non sarà! Sono abbastanza sicuro che così non sarà! E a me la vittoria di stasera ragazzi mi fa incazzare in un certo senso! Mi fa incazzare in un certo senso! Perché se tu hai battuto questo Lecce qui! Che a parere mio eh! A parere mio! È molto più forte! Di Salernitana e di Sassuolo! Tu potevi battere anche le altre due! Potevi benissimo battere anche le altre due! Potevi tranquillamente asfaltare le altre due! No! Invece no! 0-0 1-1 Vabbè! 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 Ci vediamo con la Lazio! Almeno abbiamo preso tre punti che sono importantissimi! Tre punti importanti! Anzi non importanti! Di più! Iscrivetevi al canale mi raccomando eh! Alla prossima! Alla prossima!